buongiorno siamo al TAV Umbria Verde per il Gran Premio di fine stagione Fosso Universale ragazzi diciamo come dice la canzone una splendida giornata insomma grigia pioveva finora ora per fortuna ha smesso ora caffettino e in pedana eccoci qua prima serie finita il signor Mauro d'Angiolillo ha fatto un 25 stratosferico ma sempre colpi di fortuna ci vuole anche quella ragazzi ma pizzicato è sempre preso invece ragazzi l'atleta testi ha ingrenellato 4 zeri calcio nuovo ancora va capito però ce la facciamo ce la facciamo perché erano tutti più o meno accozzati quindi vuol dire che ci stiamo lavorando ragazzi qua c'è l'atleta Cicalini che prima ad andare in pedana che ha quasi rischiato di prendere 25 e 0 era da guido a farsi fare l'assetto 23 sbagliando l'ultimo quello ti è mancato un po' di pippa culo sapevo che era l'ultimo sapevi che sparavi bene ha detto è stato quello il problema no no vabbè comunque è arrivato di corsissima non di corsa di corsissima di adrenalina a mille ti stavano chiamando e comunque dai andava bene andava bene grande spolvero sei stai sparando bene perché vedendo gli altri risultati continua così mi raccomando speriamo speriamo che non sia la gufata no no che gufato no atleta brachi com'è andata questa serie ho visto 21 20 il primo e il primo 0 e che nessuno io mi lamento mi lamento no no nessuno si deve lamentare di un 20 diciamo venuto per compagnia e sono contentissimo tempo è un po' sta reagendo comunque non pensavo vediamo fino alle due che l'ultima serie che sparo io ragazzi ora ho fatto due zeri chiuso 23 due zeretti che ho staccato la testa perché c'è un po di bianco ci sta va bene e super atleta angiolillo che vediamo laggiù ha fatto 10 e mi è venuto dietro ho sbagliato io ha sbagliato anche lui no 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 non ci siamo non ci siamo però però l'anteta angiolillo ha 49 non so se se si è capito atleta tumiatti come sta andando dopo metà metà gara ma per il momento quasi bene modesto 45 22 23 se mi ricordo di prendere anche i primi forse meglio vabbè ho sbagliato due volte il primo no ne mancano due e ci proviamo a far di meglio hai un piatto di vantaggio che io so 44 21 23 quindi però sei andato tanto a migliorare ci proviamo ci proviamo sicuramente ci proviamo signori abbiamo finito anche la terza serie 23 ma qua c'è l'omino l'omino bracovic che aveva paura ad andare a casa in bicicletta e allora ha fatto il triciclo così usciva in ape che al chiuso ma tu lo sai che oltre che piove si è anche suonato si quindi gli devi dà anche un po di clacsi ora vado a mangiare il dolcino offerto da dall'amico brachi si fa l'ha fatto con le sue mani con le sue mini manile tirami su il famoso tirami su del brachi ora lo mangio e poi vi racconto eh guardate qua che robina eh il brachi sembra che che sappia cucinare ora ve lo dico subito ragazzi vediamo cremoso guardate qua guarda qua mamma mia che crema bravi ne puoi fare più vi assicuro che è buonissimo eccoci qua gara finita il signor d'angiolillo lo vediamo un po turbato perché gara finita gara regalata che spettacolo 21 finale ci mancava 21 hai fatto ci voleva 21 no io pensavo 22 73 94 no 95 94 però sì 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 è meglio la prossima dai dai siamo fuori allenamento io invece ho fatto un bel 23 con bicicletta al 21 22 ragazzi già pensavo di andare a casa e ancora mancava 5 piattelli diciamo una bicicletta figlia del non allenamento perché perdi concentrazione e non ci sei sul pezzo ora ricopriamo gli altri ragazzi vediamo cosa hanno fatto e via atleta socio luca ballerani come sta andando nella media tra i 22 ragazzi la frutta l'ultima non riesco a fare questa stagione ci hanno diciamo anche graziate perché stamattina quando sarà perugia tirava giù un'acqua impressionante ora si dovrebbero vedere come dei schibulanti allora io ho fatto 90 24 24 mi passi perché ho fatto 23 ragazzi ragazzi chi non è venuto no niente 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 dovete tutti cominciare a tirare il piattello guarda qua che che compagnia che abbiamo guardate qua che compagnia abbiamo recuperato anche l'atleta tra virgolette Martinelli come come è andata è fatto discretamente 92 22 23 24 23 bene 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 abbiamo perso l'atleta brachi perché è andato via che era un po deluso con 81 82 però con valescente ha fatto una settimana di ospedale sì sì dai ci stava ci stava poi le condizioni meteo non erano delle migliori ora aspettiamo i risultati e poi andiamo a casa Luca com'è andata poteva andare meglio quanto è fatto? mi sono guastato quanto è fatto? totale non lo so no 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 23 19 20 20 ma scusa ma il 23 che cazzo ci dicevo? doveva essere accompagnato da altri ma si è perso per strada vabbè allora posto dai dai che stai sparando alla grande è 5 mesi che spara questo capito che risultati che sta facendo questo è un futuro campioncino atleta di monaco lei invece come sta andando? alla grande la grande quant'è fatto? ho fatto un 20 poi un 16 poi un 20 e poi un altro 20 per rimanere in media e il 16 che ci diceva? bene c'era va bene ragazzi ora c'è la premiazione ma io sicuramente vi saluto al prossimo video che penso che sarà quest'altro anno ciao grazie